La convenzione fu feroce e condusse al terrore che si piegò, ma non si potesse portarla. Se si fosse trattato di uno solo uomo ci si sarebbe ben presto liberati. Ma era un'idra dalle cento teste, e ciò nonostante quante tentativi furono fatti, quanti pericoli alle quali essi subìci solo per miracolo. Alla fine esso fu costretta a seppellirsi del sole in mezzo ai propri trionfi, perché un conquistatore possa essere feroce con buoni risultati e necessario che egli comandi i soldati ugualmente feroci, e che regni su popoli barbari. Anche per questo la Russia possiede un invenso vantaggio sul resto dell'Europa. Essa ha il raro vantaggio di avere un governo civile e popolazioni barbariche. Presso di loro i lumi del conno e comandano l'ignoranza e seghi e devastano. Oggi un sultano torco non saprebbe governare lungamente nessuna delle nazioni civili d'Europa. L'impero dei lumi sarebbe più forte della sua potenza. Su un altro argomento l'imperatore osservava che noi francesi, benché meno, ennorcici degli antichi romani, abbiamo però maggiori senso delle misure. Non ci daremo mai la morte come essi fecero sotto i primi imperatori. Per insofferenza di tiragna, nemmeno però avremmo mostrato tutti le torpe tudini, tutto il servilismo che si ritrovano sotto gli utili. Per fine nell'epoca più grotti, diceva la nostra bassessa ebbe dei limiti, e glistezzi cortegiani. A cui il principe avremmo potuto far fare tutto, si sarebbero rifiutati di ingegnerciarsi al suo levarsi. Oggi ha detto che eravamo senza notizie su giro che accadeva nel mondo. Il po' celebre che l'imperatore si era portato erano i maldissimi testi classici, che sempre lo accompagnavano durante la campagna, è Vidal Maggiori Hodson, abitante da Isola, una raccolta politica da 1793 ai 1817, che con il titolo Annual Register forniva la serie assi ben redatta. Egli avvenimenti di ci ascoltano insieme ai più importanti documenti ufficiali. Nelle penurie in cui ci trovavamo fu un prezioso acquisto e dei progetti e segno azioni politiche. Martedì 7. L'imperatore ha fatto quell'azione da solo, poi ha lavorato parecchio col Gran Marisciallo e col Montelon. La sera mentre l'imperatore e io stavamo passeggiando soli, ora molto tardi, nel Viale Inferiori che era diventato il suo luogo predeletto, Gris disse che un importante personaggio, il quale, per le sue idee e le sue relazioni, poteva esserci intermediario col mondo e influere sulle nostre sorti forturi, aveva interrogato conformi e preliminari ai sei significativi. Uno di noi chiedendogli che io, ciò che con sincerità credeva dall'imperatore e affrontando alcune questioni politiche, e ciò che gli avessi dato la sua ultima costituzione con l'intenzione autentica di mantenerela, che avessi rinunciato in buona fede ai suoi antichi progetti di vasto impero, se avrevi acconsentito a lasciare a Inglaterra la sua supremazia marittima e non le avrevi insediato in tranquillo possesso da Indy, se non avrevi accettato di rinunciare alla colonia acquistando dai soldi inglesi le derate coloniali al prezzo di commercio, se non si sarebbe unito agli americani nel caso di loro attore con Inglaterra. E non avrevi consentito la formazione di un gran regno, ma disse i matassi classici che sempre lo accompagnavano durante la campagna e vi dal Maggiore Hudson, evitante da Isola, una raccolta politica, in Germania con la Casa d'Inglaterra che rischiava di perdere tra brevi quella della Gran Bretagna qualora si verificasse la sessa del trono del Giovanni Picci Pesca de Gauss. E se nel caso non avrevi consentito instabilire questa sovranità in Portugale nel caso in cui l'Inglaterra si fosse messa d'accordo con la corte del Brasile. Questi domande non si basavano sui devaghi, o suoi opinioni fini e se stessi. E per se ne so le avvalorava con dichiarazioni positive. Non abbiamo bisogno, diceva, di una pace lunga e duratura sul continente e di un chietto godimento dei nostri attuali vantaggi per uscire dalla crisi finanziaria nella quale ci troviamo e alleggerire il debito enorme da cui siamo oppressi. Ora le condizioni attuali della Francia, aggiungeva e quelle dell'Europa, non potrebbero per come si presentano oggi assicurarci questo risultato. La nostra vittoria del Waterloo ha perduto voi ma non ha salvato noi ma noi tutti gli uomini nel buon senso tutti quelli che possono sfuggire l'influenza momentanea delle passioni. La pensano o la penseranno così. L'imperatore poneva in dubbio una parte di questo racconto e considerava tutto il resto come una fantischeria. Poi quasi, trascellendo, mi disse e vedi, sentiamo la vostra opinione. Coraggio, signori, eccoci al Consiglio di Stato. Se risposte, si usa spesso fantasticare le sue cose più gravi e, pur trovandoci prigionieri a Santa Elena, non ci è ancora proibito di comporre la trama di un bel romanzo. Ci proverò, dunque, a farne uno perché non si potrebbe fare un matrimonio politico tra due popoli, uno dei quali porti e noti la forza dell'esercito, e l'altro la flotta? Ideofoli, senza dubbio, egli occhi della genti volgare, e forse troppo ardita per gli stessi diplomatici perché è del tutto nuova, e al di fuori e di ogni routine e puri appartiene a quel genere di creazioni imprevedabili, luminose e utili che contraddistinguono vostra maestà, che è la sola a poterli far ascoltare e portare a colpimento.